ancora ciao a tutti ragazzi ragazze io sono jonathan senza le cuffie e ben ritornati in questo nuovo fashion blog oggi come avrete letto dal titolo abbiamo un nuovo arrivato qui in famiglia nella famiglia dei noi con voi con te e un cane che si chiama Iaco si chiama Iago o Iago un cane che si chiama Iago ed è un chihuahua il chihuahua più piccolo più bello e più moderno della storia canina adesso ve lo facciamo vedere non è dietro questa porta ma è in sala adesso vediamo ecco raga ecco ragazzi loro sono Ismaele e Gioele insieme siamo noi con voi con te est e il allora questi questo è un tipo una un water per il cane è un water per lui però lui ha cagato lì e pisciato l'acqua ha cagato eh lo so e ha pisciato qua perché lui non ha ancora imparato deve stare qua questo è il mangiare dove c'è l'acqua e vi devo dire una cosa eh allora ah bravo non inquadrare il cane comunque allora che vuoi prima prima di farcelo vedere quando di farvelo vedere prima di farcelo vedere a noi a noi tre aveva cagato ah in casa ok allora siete pronti per vedere il giocattolo il cane questo è il giocattolo e poi c'è anche fermo la copertina c'è una coperta e lo vedrete quando vedrete il cane 3 3 2 1 eccolo Iago 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 no Iago Iago questa è la copertina e lui questo è lui che sta a dormire aspetta attiviamo il flash aspetta troppa luce ok ecco l'avete visto ecco aspetta lì fa le le ecco la mano sei sopra me però perché non sei addosso a me ti prego stai addosso a me io sopra che si mi sto facendo qualcosa no no che carino allora io sono una parte di lui ah no sto dentro ah mi sta leccando le orecchie aiuto ahhh che schifo no entro dentro la sua cuccia per vedere cosa mi farà mi aggredirà spero di no eccolo eccolo oddio sta qua lui è piccolo sembra piccolo ma cioè sembra grande ma non lo è ecco vai fuori vai fuori fuori ecco va fuori piccolino cucorino vabbè l'avete visto sicuramente eccolo come è piccolo sembra un pupazzo ma non lo è vabbè forse è meglio chiudere il video perché sta durando tre minuti e mezzo no tocco 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 e comunque vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina lasciare like e scrivere qua sotto un commento e grazie a tutti per aver visto il televlog del frateco è meglio che finisca quel vlog è meglio che lo chiuda spero vi sia stato utile e piacente e da noi tutti io jonas vannis i miei due fratelli smile e joele i loro veri nomi da youtuber i loro veri nomi da youtube i loro veri i loro nomi da youtuber sono ettores vannis e joel vannis insieme siamo noi con voi con te anche se il canale dovrebbe essere mio e da noi tutti ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze finis finis grazie ancora a tutti per aver visto il video di nuovo ciao